Musica Se in America chiedi Chi è sepolto nella tomba di Grant? Tutti rispondono Ulysses S. Grant Ma se chiedi chi ha inventato il codice Morse potresti avere una sorpresa Nel 1830 Samuel Morse è un professore d'arte all'Università di New York Dopo alcuni fallimenti finanziari pensa di dedicarsi alla scienza Vuole costruire un sistema che usì l'elettricità per mandare messaggi via cavo Nel 1837 tiene una dimostrazione pubblica delle sue teorie L'idea di Morse era di creare una comunicazione elettronica istantanea ma era un artista e non un tecnico Morse non sa nulla di elettricità Il suo primo telegrafo è un sistema complesso ingombrante e poco funzionale Ma la dimostrazione attira l'attenzione di un giovanotto di nome Alfred Vail Vail aveva 30 anni e si stava costruendo il futuro aveva studiato giurisprudenza in New York ma si laureò quando l'America era in piena depressione quindi restò disoccupato e dovette trovare un altro scopo nella vita Vail è il figlio di un ricco industriale di Morrison nel New Jersey Affascinato dal telegrafo si offre di aiutare Morse ma soprattutto convince suo padre a finanziare l'impresa e a concedergli l'utilizzo dei suoi laboratori Mentre Vail lavora sodo per migliorare l'efficienza del telegrafo Morse preferisce dedicarsi ad altri affari Anziché partecipare attivamente alle ricerche Morse non assisteva nemmeno al lavoro Fu Alfred a pensare a tutto Vail riprogetta virtualmente il telegrafo rendendolo più efficiente ed affidabile e apporta una modifica ancora più importante Morse ha creato un complicatissimo codice che associa un numero ad ogni parola Quando arriva il segnale l'operatore deve scorrere tutto il codice scritto per trovare il significato del numero Per Vail è un sistema troppo lento e inefficiente Vail trovò il modo per spedire i messaggi lettera per lettera Con l'aiuto di William Baxter cercò le lettere più usate sui giornali e a queste associò i segnali più corti Scoprono che la lettera E è la più usata quindi la associano al segnale più corto Il punto E così nacque l'alfabeto di punti e trattini Queste scoperte ottengono il brevetto per il telegrafo elettromagnetico il 20 giugno 1840 Il brevetto descrive entrambi i codici ma il sistema di Vail risulta più semplice da usare Ma Vail non riceverà alcun riconoscimento perché il suo nome non figura sul brevetto Nel 1837 la famiglia Vail cedette ufficialmente tutti i diritti delle scoperte a Morse Probabilmente i Vail avevano soggezione del professore perché aveva 20 anni di più di Alfred ed era una persona alquanto rinomata Grazie al telegrafo Morse diventa ricco e famoso ma Alfred non è altrettanto fortunato costretto a vendere i suoi diritti prima del successo muore povero Questa storia ha anche un lato positivo Vail si sentiva pagato per un lavoro che richiedeva molta più intelligenza e fantasia degli altri La morale della storia è la capacità di Vail di sentirsi realizzato anche senza alcun riconoscimento della storia Grazie a tutti.